In Cina, che tende ad anticipare sempre la tendenza, precisamente a Shanghai, si registra il picco di contagi più elevato degli ultimi due anni. Tutti abbiamo voglia di tornare alla normalità, ma abbiamo il dovere di dire ai nostri concittadini che occorre prudenza perché la situazione rimane delicata. Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, riguardo all'aumento dei contagi anche in regione Campania. Ho visto che in Cina, la Cina anticipa sempre di 4-5 mesi quello che succede nel resto del mondo. Abbiamo avuto a Shanghai il picco di contagio più alto degli ultimi due anni, perché è venuta fuori una variante che è più contagiosa anche di Omicron 2. Tutti quanti abbiamo voglia di tornare alla normalità, ma abbiamo il dovere di dire ai nostri concittadini che occorre prudenza. Noi avremo questa estate ovviamente un rimescolamento sociale, è chiaro che la gente andrà in giro, abbiamo tutti quanti voglia di respirare, di metterci in movimento, ma perlomeno manteniamo sempre la mascherina. Almeno questo elemento di prudenza manteniamolo, anche perché registriamo un aumento dei contagi, soprattutto nella fascia al di sotto dei 18 anni. e quindi la situazione rimane delicata. Ecco, siamo prudenti, almeno questo.